Buon pomeriggio a tutti ragazzi come da qualche ora saprete tutti c'è stata una grande perdita nel mondo del calcio è morto il difensore centrale della Fiorentina nonché il capitano della stessa Fiorentina Davide Astori a lui vanno la sua famiglia vanno le mie perussigere condoglianze perché doveva fare la scomparsa di un giovane ragazzo di 31 anni ancora aveva diciamo aveva giovanissimo di sicuro non si può morire così giovane purtroppo la morte non guarda in faccia nessuno il calciatore è cresciuto nelle giovani del Milan poi in squadre di intervisti di intervisterecine pizzichetone poi è stato cresciuto a Cagliari aveva giocato 6 anni poi è stata da Roma qualche anno mi sembra un anno ha preso tante infortune poi ho sentito presenza con la famiglia della Fiorentina dove è stato anche il capitano l'ultima persona che l'ha visto come detto Sky è stato Sportiello dove hanno giocato la Playstation e oggi alle 9.30 se n'è andata e vosa in pace campione